L'oroscopo della ATM, Azienza Trasporti Pubblici di Milano. Traffico intenso, diverse linee rallentate. Il traffico in diverse zone della città sta rallentando. La circolazione dei nostri mezzi. In particolare delle linee ovite. 1, 2, 14, 16, 40, 43, 45, 50, 57, 60 e 67. 70, 85, 90, 91, 92, 93 e 923. Considerate maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito. Vaticinio dell'Azienda Trasporti Milanesi, dicembre 15, anno domini 2023. Arrivederci da Mandanet.